Amo, mi ripeti ad alta voce così, cioè, io imparo qualcosa. Cosa sta chiedendo? Dio, tocca a me. Cos'è questa parola? Cosa vuol dire? Sta chiedendo il capitolo 4? L'aula G712 che da un quarto d'ora che... era su? No, ma raga, io questa cosa non l'ho studiata. Amo, mi sto rendendo conto che io sono impreparata, cioè, non lo passerò mai questo esame. Cosa ti ha chiesto? Scusa, ma in che libro era? È di là, è di là. Cosa ti ha chiesto? Sicuri di là? No, ma raga, non si può vivere con stanzi ogni volta però, eh. Ma l'assistente è buono? È cattivo? Ma quel manuale, guarda, che non c'era da studiare. Il capitolo 9? Io piuttosto lo ridò al prossimo appello, sarà tra otto mesi, pazienza. Non ho capito cos'è che sta chiedendo? Gli appunti. Ma io non ho preso gli appunti, chiede gli appunti. Il mio unico obiettivo è saltare quelle siepi, ragazze. Sta chiedendo sul serio il capitolo 9. Allora, primo esame della sessione è andato, ce ne mancano solo 14.